Minardi, a che punto è la realizzazione della ciclovia adriatica nella nostra regione? Il progetto della ciclovia adriatica sta andando avanti, è un'opera infrastrutturale, le cosiddette infrastrutture del benessere per la mobilità sostenibile, per la sicurezza della mobilità, è un'opera che sta andando avanti. Adesso c'è una novità, una novità che significa che stanno per arrivare 27 milioni e mezzo dal Ministero delle Infrastrutture direttamente alla regione Marche. E siccome nella nostra provincia, nella nostra città, di fatto una parte della pista ciclabile della ciclovia adriatica, che è un'opera di 1300 chilometri, che coinvolge 99 comuni, 17 province, 6 regioni, deve essere completata. E l'obiettivo è quello che nel mentre si sta realizzando il ponte sul fiume Cesano, che ha avuto un costo importante di circa 4 milioni e mezzo, adesso bisogna pensare al tratto fanese, in modo tale da poter collegare il nord della provincia con la provincia di Ancona, Fano-Pesaro con Senigallia-Ancona, le due province. Manca il ponte sul fiume Metauro e manca il tratto da realizzare fra il ponte Metauro, la città di Fano, perché la pista ciclabile Fano-Pesaro è già stata realizzata dieci anni fa, quindi serve la parte centrale della città, il ponte sul fiume Metauro e dal ponte sul fiume Metauro fino a Ponte Sasso. È un tratto importante che deve essere realizzato, il costo del ponte sarà sicuramente un costo importante, ma l'obiettivo della mia interrogazione è proprio chiedere alla regione di destinare una parte importante delle risorse che arriveranno dal Ministero al completamento di quest'opera, che di fatto unirebbe totalmente le due province. Non possiamo lasciare questo buco in mezzo, ovviamente bisogna progettarlo, so che in parte dei progetti stanno andando avanti, ma non c'erano i finanziamenti. Ora l'obiettivo è finalizzare gli investimenti con i finanziamenti che sono in arrivo. L'obiettivo è ovviamente quello di dare sicurezza ai pedoni, sappiamo che la ciclovia adriatica è un'opera importante, voluta non solo dalla regione, dalle regioni, ma anche dalla FIAB, ed è un'opportunità per lo sviluppo anche dal punto di vista turistico. Abbiamo visto quante opportunità turistiche può dare un'opera di questo genere, con il cicloturismo che sta evolvendo sempre di più. E poi non dimentichiamo mai la sicurezza, la sostenibilità della mobilità dolce. Grazie.